Gli arrivi irregolari in Europa sono calati di un quarto nel 2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma i mesi estivi rimangono i più critici, con un incremento del 9% fra luglio e agosto. Emerge dai dati di Frontex, Agenzia Europea della Guardia di Frontiere e Costiera. Sempre meno migranti scelgono la tratta più pericolosa, quella del Mediterraneo centrale, per raggiungere le coste europee. Gli arrivi sulle rive italiane e maltesi sono ridotti a un terzo di quelli di un anno fa, 6.570. Una cifra che impallidisce davanti agli oltre 38.000 che ha dovuto affrontare la Grecia, dove invece c'è una crescita del 10% ad agosto. 26.000 persone si trovano in questo momento nei campi profughi di Lesbo, Samos e Kios. Puntano a raggiungere l'Europa centrale o i paesi scandinavi, ma sono in pochi a riuscirci. La stretta dei governi balcanici e l'accordo raggiunto con il governo turco ha quasi dimezzato i passaggi quest'anno se confrontati al 2018.